Un ponte di Natale ricco di eventi a Cortona. Anche nei giorni della vigilia, sino dopo Santo Stefano, prosegue Natale di stelle, luci e riflessi. La programmazione offerta dall'amministrazione comunale con la regia di Cortona Sviluppo e la collaborazione di artisti e associazioni. Natale e Santo Stefano saranno così contrassegnati dal ritorno del presepe vivente a Pietraia, appuntamento alle 17.30 e alle 19.30. Il 26 dicembre nella cattedrale di Cortona alle 16.30 invece il concerto I Bambini Cantano il Natale, alle 17 poi in Piazza della Repubblica al Light and Fire Show con le scintille dei giocolieri acrobatici. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero come le attrazioni fisse, ogni sera il light mapping in Piazza della Repubblica e i mercatini in Piazza Garibaldi e Signorelli. Tutto pronto anche per gli eventi di San Silvestro e Capodanno. Il 31 gennaio Cortona proporrà infatti la consueta festa in Piazza della Repubblica, il primo anno invece si aprirà con la quindicesima edizione della colazione al museo. Alle 17 del primo gennaio infine al Teatro Signorelli si esibirà la coro-orchestra.